Allora è finito il video. Già, è un sacco di tempo che lo guardano e bisbigliano. Avete fatto? Sì, abbiamo visto abbastanza. I tuoi genitori ti stanno proprio maltrattando, non è giusto. Già, da un sacco di tempo. E poi non è giusto barare per vincere il concorso. I tuoi genitori devono perdere la custodia. Cosa? Sì, e poi tuo padre non deve più essere sindaco perché ha abusato di potere. Gli converrà una bella multa. Portaci a casa tua, così gli diciamo tutto. Non so ragazzi, a me sembra un po' esagerato. Non è esagerato, ricorda come ti hanno trattato. Poi sono poliziotti, sanno il suo lavoro. Ed è vero, non solo ti hanno maltrattato, tuo padre ha abusato di potere, non meritita di essere il sindaco. Va bene, vi porto a casa mia, andiamo. Ok, questa è casa mia. Gli dico di venire fuori. No, no, non serve, entriamo con la forza. Bam! Fermi tutti! Polizia! Sì, è un piano perfetto. Cosa è la polizia? Esatto, state fermi e mettete giù quel tablet con il vostro piano malefico. Ma quale piano malefico? Isa, cosa ci fai con la polizia e chi sono tutti quei ragazzi? Amici, mamma. Veri amici, che mi hanno fatto capire come mi maltrattavate. Dovete finirla, sei ossessionato da essere il sindaco. Già, addirittura baria i concorsi. Lei ha abusato di potere, oltre a aver maltrattato sua figlia. Ehi, lei, prima di incolparci così tanto, lei non ha neanche un straccio di prove. Già, non crederà a quei ragazzini. Ci credo e come, mi hanno fatto vedere un video. E poi si vede da lei, e poi proprio la casa, e proprio così. E poi voi, piano malefico, dammi qua, cosa fate, fate sul tablet? No, fermo! Cosa? Avete pagato addirittura delle persone per farvi rapinare? Sì, così la gente si sarebbe intenerita e avrebbe votato te come sindaco? Fai veramente schifo, come gli amici che ti frequentano. Comunque siamo venuti anche qui per dirvi che avete perso la custodia di vostra figlia. Cosa? Già, non potrà più stare da qui. Allora, dovrei stare a casa di qualcuno. Intanto, voi venite in centrale con me. Vedremo cosa fare di voi. Sei contenta? Sei d'accordo che trattino così i tuoi genitori? Sì, perché voi avete sbagliato. Già, la prossima volta ci penserete due volte, prima di mettere queste cose davanti a vostra figlia e alla casa. E ad abusare di potere. Già, avete perso vostra figlia e voi cosa sapete dire? Incolparla, fare così? Vergognatevi. Tieni il tablet, glia a manetto. Non ci tocchi! Venite qui. Ragazzina, nel frattempo che troverai una nuova sistemazione, hai un posto dove stare? Oh, no, io non avevo pensato. Puoi stare a casa mia di Argentina? Sì, abbiamo una camera degli ospiti. Puoi stare lì temporaneamente affinché non trovi una nuova sistemazione. Sì, poi cercherò di contattarmi con i miei parenti perché loro me l'hanno sempre vietato. Io ho solo delle foto dei miei parenti e così. Sì, ma tranquillo, poi noi li riusciremo a rintracciare. Ok, vai pure in camera tua a prendere le cose e poi potrai andare a casa loro. Va bene, grazie. Un po' dopo... Bene, eccoci arrivati. Oh, non sono sicura. E se i vostri genitori non mi volessero? Ma certo, i nostri genitori sono dolcissimi e capiranno la situazione. Puoi essere una sistemazione temporanea, eh. Eh, ciao mamma, siamo tornati. Oh, ciao ragazzi, già di ritorno? Sì, dobbiamo dirti una cosa seria. Puoi spegnere un attimo l'aspirapolvere? Oh, certo. Cosa mi dovete dire? Cosa sono quelle facce così serie? Chi è quella? Una vostra nuova amica? Eh, sì, si dovrà fermare un po' da noi. Eh, un po'? Cosa ho? Cioè, tipo... Vuoi fare un pigioma party? No, dovrà stare qui... Qualche giorno? Non so esattamente quanto dovrò stare. Devo trovare un'altra sistemazione perché venivo maltrattata dai miei genitori. Sì, ora sono dalla polizia perché l'hanno maltrattata, hanno perso la sua custodia e il padre è abusato di potere, di sindaco, ecco tutto. Ora, bu, gli saranno facendo qualcosa. E io devo... Loro, i miei puliziotti, devono anche cercare di trovare i miei parenti perché i miei genitori non me li hanno mai fatti vedere. Io non so chi sono, quanti sono, non li ho mai visti, non c'è nessuna foto in casa. Che è che... Ci trasfilevamo sempre. Quindi le sarei davvero grata se potrei stare un po' qui. Sì, posso stare nella stanza degli ospiti. Oh, cavolo, mi dispiace tanto per quello che è passato. Certo, puoi rimanere. Grazie mille, molto gentile. Vieni, ti portiamo nella tua stanza. E questa? Non sarà enorme, non sarà tutto questo lusso, ma... Era la ex camera di nostra nonna prima che venisse a mancare. Oh no, ma va benissimo, mi andrà bene. Bene, speriamo che papà la prenda bene. Ma se gli dai. Bene, allora noi ti lasciamo sistemare le tue cose e andiamo in camera nostra. Ci vediamo dopo per la cena. Va bene, grazie. Spero di riuscire a ritrovare i miei parenti, perché davvero se no sono spacciata. Bene, Stellina, il nostro episodio finisce qui. Cosa ne pensate di lei che rimane da Argentina e Danny? Voi l'avreste offerto? Se fosse la mamma, avreste accettato? Secondo voi i polizioti hanno esagerato a fare tutte quelle cose ai suoi genitori o è giusto? Riuscirà a mettersi in contatto con i suoi parenti? Lo scopriremo nella prossima puntata. Non dimenticatevi di iscrivervi, lasciare like e condividere il video. Ciao!